Fondamentale la testimonianza Fondamentale la testimonianza del genero di Cristiani che ha confessato di aver visto il suocere esplodere quattro colpi contro Quercia e di essere poi scappato subito dopo averlo accompagnato alla villetta in contrada coppe. Il genero avrebbe poi, su suggerimento del legale, chiamato un'ora dopo il 118 per far soccorrere la vittima. È stata un'indagine che abbiamo portato sul tappeto in maniera assolutamente classica tramite acquisizioni documentali, sommare informazioni di persone informate sui fatti e appunto il genero è stato l'unico testimone oculare dell'efferato delitto. Inizialmente si è presentato reticente ma poi ha capito che l'unica strada era quella di dire effettivamente la verità. Quercia aveva seguito dei piccoli lavori in passato per l'anziano nella villetta in contrada coppe. L'omicidio sarebbe maturato al termine di una violenta lite tra i due a causa di pagamenti non saldati. I carabinieri di Andia, guidati dal Maggiore Massimiliano Occhiogrosso e coordinati dal PM Michele Ruggero, hanno chiuso le indagini in dieci ore dai rilievi e dagli interrogatori effettuati direttamente nella villetta. Infatti nella mattinata di ieri è emersa tutta la violenta personalità dell'uomo, tanto da incutere timore anche alla propria famiglia e per questo da costringere gli inquirenti a trasferirlo in carcere nonostante l'età avanzata. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS